Mourinho, lei ha centinaia di partite nelle Coppe Europee, da dentro fuori, scontro diretto, considerando anche il valore dei gol in trasferta, soprattutto nella partita di ritorno. Le volevo chiedere se l'abolizione di questa regola in qualche modo cambia l'impostazione della partita, soprattutto quella di ritorno. Un po' sì. Penso che alla fine ci saranno più extra time di prima, perché il 2-1, 1-0, 1-1, 0-0, c'era un vincente e adesso ci saranno molto di più extra time. L'impostazione cambia un po', però non tanto, perché il nostro obiettivo sarebbe sempre, indipendente del risultato, sarebbe sempre giocare per vincere. Noi sappiamo che un pareggio ci serve, però pensaremo al pareggio al minuto 80. Si stiamo pareggiando al minuto 80, 85, ovviamente chi non deve correre nessun tipo di rischio. Però la mentalità è giocare la partita come se la partita è una partita secca, andiamo lì per cercare di vincere. Per questa ragione non cambierà tanto. Dubaldo, il Corriere dello Sport. Buongiorno, piacere. Volevo chiederle questo, al di là dell'importanza di questa partita di riparsare il turno, vorrei chiederle le sensazioni, anche le emozioni, se vogliamo, di quello che è stato il primo patto dell'Olimpico, con la gente che ci sarà subito una grande empatia con i tifosi della Roma, e se questa squadra, lei lo ha detto già al termine della partita contro la Fiorentina, ha ancora ampi margini di miglioramento dal punto di vista del gioco. Ecco, queste due cose mi interessano. Certo, tanto, però tanto. Io ho fatto complimenti a... italiano, perché noi due lavoriamo con i nostri giocatori da meno da due mesi, e quando la sua squadra arriva a quel partito, a quella partita, giocando dal modo che ha giocato, ho fatto ovviamente complimenti. che siamo due casi, noi e tanti altri, perché tanti altri allenatori siamo arrivati di nuovo. Magari l'Inter è diverso, perché Inzaghi ha una squadra che gioca da occhi chiusi. per noi è più difficile, c'è tanto da migliorare, c'è tanto da lavorare. Ancora oggi abbiamo allenato una situazione di gioco che a me personalmente non mi è piaciuto nella partita contro la Fiorentina, dove i ragazzi hanno la dinamica di farlo di quel modo lì, perché era così che lo facevano prima. E questo ovviamente non è una critica a Paolo, tutto il contrario. e quello che arriverà dopo me sentirà lo stesso, perché noi abbiamo le nostre idee. Io, gli italiani, gli altri come noi, siamo in un momento, penso, e anche i giocatori stanno ancora cercando questa situazione automatica. Prima è capire quello che vogliamo noi, dopo è allenare, dopo è la dinamica e finalmente sarà fare di un modo automatico, c'è tanto da migliorare. Per questo io ero contento con quello che abbiamo fatto, perché ho capito che era molto difficile di fare meglio. Dal punto di vista del gioco difensivo è più facile di migliorare le dinamiche, dal punto di vista del gioco offensivo è più difficile, è più difficile. Gli bisogna più tempo. Abbiamo rossa sui tifosi, sul primo impatto con i tifosi? No, bene, 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 benissimo, però siamo noi squadre che dobbiamo creare questa empatia. Come? Il modo di giocare. E se qualche volta tu non puoi giocare bene, penso i tifosi accetteranno una performance negativa, saranno con la squadra dopo un risultato negativo, però come dicevo io, ci sono delle cose che non sono negoziabili, che devono essere sempre lì e penso che i tifosi capiscono molto molto bene questo. Capiscono molto bene l'interpretazione dell'atteggiamento, il modo di essere professionisti, il modo di giocare, non solamente per noi professionisti, ma anche per loro come tifosi. E questa empatia siamo noi che la dobbiamo creare. Il rapporto sarà una conseguenza di un modo come noi siamo in campo, come noi ci dedichiamo a questo club. È nostra responsabilità. Non dobbiamo chiedere niente ai tifosi, loro daranno quello che loro pensano che è giusto da dare. È nostra responsabilità di fare tutto per creare questa empatia. Pugliese, la Gazzetta. Buongiorno mister. In questo precampionato abbiamo visto sempre Lorenzo Pellegrini giocare da trequartista centrale, anche molto bene le ultime due partite delle prime gare ufficiali. Però le volevo chiedere, è quello l'unico ruolo secondo lei in cui può giocare Pellegrini o se dovesse servire, come è successo anche in passato, può scivolare tre due mediani, magari andare a aiutare anche a centrocampo? Può fare tutto, può fare tutto. Se noi abbiamo tre Pellegrini, penso che tutti e tre giocherebbero nella squadra allo stesso tempo. Non lascerebbe nessuno dei tre in panchina, giocherebbero i tre. È un giocatore multifunzionale, si può adattare a diversi ruoli. Anche l'altro giorno quando abbiamo giocato con dieci, ha giocato su fascia destra, ovviamente dentro però su fascia destra. Ha creato quella bellissima situazione dove Tami ha messo al palo. Il Lorenzo è intelligente, capisce il gioco, capisce le idee di allenatore. I conti dicevano che se ci sono tre, giocherebbero i tre. Valdi Servi, il Corriere della Serie. Buongiorno. Ciao, buongiorno. Lei ha utilizzato in pratica 12 giocatori nelle prime due partite. Sei di loro hanno fatto tutti ai 190 minuti, sono i difensori più cristanti. Adesso è la terza partita, è arrivato il momento di fare turnover? Ho visto anche l'avversario e il fatto che questa è una partita dentro o fuori, continuerà a far giocare di stessi e poi semmai cambierà per Salerno. Siamo in un momento in cui abbiamo bisogno di giocare. Abbiamo fatto un bel precampionato, però ho dato i minuti a tutti. I primi tre, quattro, cinque partite sono state partite di livello competitivo basso. In questo momento abbiamo bisogno di giocare. Se abbiamo qualche profilo di giocatore, dobbiamo controllare molto molto bene il data che abbiamo, perché sono giocatori di un profilo e di una storia del passato per un passato non lontano, di infortuni, dei problemi. Se ci sono di questi profili di giocatori, bisogna fare attenzione. Però ci sono altri che bisogna dei minuti, minuti in campo, minuti per giocare, per trovare l'intensità di gioco, per trovare il ritmo naturale di gioco. In questo momento non è il momento di fare tanti cambi. Lengua, il messaggero. Buongiorno. Ciao. Ci hanno riferito di un episodio sgradevole a Diavara ieri. Immagino lei sappia. Le vorrei chiedere a questo calciatore che ruolo ha nella sua Roma e se vuole commentare l'episodio. L'episodio è niente. non è un episodio di aggressività fisica, è un episodio di parole che hanno provocato una piccola reazione. non è un dramma, non c'è niente di speciale. Il ruolo è un giocatore di nostra rosa. come voi sapete c'è un gruppo che era grande, adesso è più piccolo, però c'è un gruppo di giocatori che non sta lavorando con noi, che sta lavorando in separato. e Diavara sta con noi, è un giocatore di nostra rosa. Il mercato è aperto fino a 31, è aperto, può succedere qualcosa, però può succedere che Diavara rimana con noi, se rimana con noi è un'opzione. è un giocatore con esperienza, un giocatore con qualità, un professionista buono, un uomo buono, un uomo che tutti noi abbiamo un rapporto vicino e carino perché è un ragazzo fantastico. Si rimana con noi, è un plus per noi, non è mai un problema per noi. Per questa ragione, tanto io come società di un modo generale, come il proprio Diavara, siamo tranquilli e è così, non è un problema. Quasan, il rumanista. Buongiorno mistero. Ciao, buongiorno. Volevo chiedere, a proposito della VAR che mancherà in conferenze league come è mancata l'andata, se trova giusto che una competizione internazionale, che tra l'altro esordisce quest'anno, non applichi questo che è diventato un regolamento del calcio e che cosa cambia eventualmente nella preparazione di una partita, se dirà qualcosa di particolare ai suoi giocatori. Grazie. No, ho detto già nella prima partita, ci dobbiamo adattare un po'. Io continuo pensando, magari sbaglio, però continuo pensando che il gol del Trabzon Spor a Trabzon magari fuori gioco, però ci dobbiamo adattare. come minimo domani avremo, come si dice, gol line technology che non abbiamo avuto a Turchia, è già un miglioramento e ci dobbiamo adattare. vediamo, però io capisco la difficoltà a livello UEFA perché è una competizione nuova, competizione che in principio avrà in fase di girone e principalmente adesso in play-off tante squadre di paesi, che non è il caso Italia e Turchia, però ci sono tanti paesi dove le squadre non hanno né stadi né condizioni tecnologiche nel proprio calcio del paese per avere VAR. Si deve accettare come una competizione che deve ancora crescere e fare crescere tanti paesi che saranno in questa competizione per prima volta, penso io. Noi non siamo stati fortunati con il sorteggio, un avversario dei più forti, però ci sono tanti avversari di tanti paesi dove si deve accettare che è un po' difficile. Però, se non sbaglio, quando arrivi il VAR, semifinale o solo finale, vediamo se arriviamo. Facciamo l'ultima, Pizzo Ferrato, Aria. Ciao Giuseppe, ben ritrovato. Senti, prima hai parlato dell'empatia, a cui tieni molto, dicendo che dovrà crescere in base al gioco che propone la squadra. Però io ricordo anche, dieci anni fa, che questa empatia vincente arrivava anche creando un fortino contro un ipotetico nemico e la squadra si fomentava insieme alla gente e si è arrivati al famoso rumore dei nemici. Volevo sapere se pensi che anche a Roma sarai, tra virgolette, costretto a quel tipo di cosa o c'è una nuova versione di Mourinho questa volta? La nuova versione è che il nemico è il Trabzonspor e a partire di venerdì sarà Salernitana. Penso che non stiamo in condizione di dire che questo è il nostro obiettivo e questi saranno i nostri due o tre nemici perché il nostro target è quello target lì. Non siamo in condizione di fare questo. Siamo una squadra in crescita, siamo una squadra che si deve sviluppare tanto e tanto nel tempo. Non siamo in condizione di dire ok c'è lì quella squadra lì, quella squadra lì. Quindi non siamo in condizione. Siamo in condizione di dire, come ho detto già, vogliamo cercare di vincere ogni partita e il focus sarà sempre e sempre nella prossima partita. Per questa ragione domani è più importante che domenica. Domani la Conference League sarà più importante di Serie A. e per questa ragione non penso a tanti cambi, non penso al tradizionale turnover perché per noi domani è la partita. Grazie mille. Finiamo? Finito? Grazie, grazie mille. Grazie mille.